Ciao a tutti ragazzi, da Kinglandia sono tornato in unesimo stupidissimo video, ma come ho visto dall'intro sono tornato, ma non sapete c'è mai peso, c'è mai pesa, la voglia di poter pulire le mie carti di Pokémon su YouTube, e non sono l'unico, perché io da oggi in poi cerco il mio mito che è Tuberanza, se mi stai seguendo Tuberanza, se mi vedi, se soltanto sai che esisto, io ti stimo zio, ti stimo, sei un bomber, ragazzi a te, anche senza la luce, io ti seguo perché qui ho le carte di Pokémon, non cominciamo a farvi vedere le mie carte di Pokémon, facciamo una cosa veloce, fresh, fresh, c'è una bicicletta, a chi è che mi piace una bicicletta, c'è un sangue, un coccodrino, molto figo, punti, non c'è che servono, c'è un broccano, vabbè, ora è il mio poco preferito, una bella, bella Artic, mia sorella d'inverno, un Wobat, un pipistella talmente carino, talmente carino, un Odish, che dorme, me la manderei questa della pittà, un Sner, una coccodrino montata, una coccodrino montata, un fungus allergico, mi la mando, quindi ti devo buttare, ho una bella alimentrice, ve lo faccio vedere meglio, una bella, una candela, una Litwit, un Wishmore, non c'è, non c'è che serva, un panneward, un panneward, molto figo, un altro panneward, molto figo, un coccodrino, un coccodrino che non mi sapaccendeva, si può mirare perché work, inizia la legge erano tutti i modelli e una paiblia del controllo con lo abbiate e anche possiamo lo intuitare, anche questa cuocodrino con la minura tutta il controllo con la minura, con la minura inizia le grazie初 Time two canvino con lo abbiate. e sapete il pull line l'ombre è un spagnolo ombre 5-tech un cielo e cielo nell'abomano uno suante sto tenendo scutato un recupero di energia possiamo ricaricarci con questa carta un jack no un jack cut un bel johnton vedete un charmander un romantone del cat schiga da paura durante un romantone e ora berth un jack un'isola d'inverno il mio popolo preferito ma poi c'è lui io non so come l'abbia riuscito a trovare è vero bellissima l'advento non so come ce la faccio e grazie io con questo video ho terminato spero che vi sia piaciuto vedere le mie carte di popolo lo so che questo canale si è abitato a sentire le storie e a sentire altre cose più interessanti ma i pokemon saranno interessanti perché arriveranno una cima di pokemon grazie a kinglandia e grazie a tu belanza per avermi aperto questa via quindi io vi ringrazio vi mando un saluto un saluto a tu belanza con tutti i suoi iscritti un saluto un saluto un saluto un saluto ciao 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 ciao